Bene signori, ora presentiamo un quadro dal valore inestimabile, asta libera, al migliore offerente. Fate le vostre offerte. Signori, le vostre offerte. È un Renoir, signori, dal valore unico e di una bellezza inimitabile. Le vostre offerte, signori. Ed ora un vaso dell'epoca Ming, un oggetto di rara bellezza, che non può mancare nella vostra collezione. Le vostre offerte, signori, è un oggetto da desiderio. Le vostre offerte. Ed ora il pregio della nostra asta, il fortunato che la possiederà, potrà inviare e ricevere denaro, fare acquisti e pagamenti e ricaricarsi come e quando vuole per non restare senza credito. Inoltre è conveniente perché si risparmia le vostre offerte. Le vostre offerte. Grazie.